E' un appuntamento che ogni anno si sussegue unendo tradizione, storia e fede. A Fano, come ogni martedì, che segue la Pasqua, si è tenuta la festa della Madonna del Ponte Metauro. Gremita la chiesa per la messa celebrata dal Vescovo della Diocesi di Fano, Fossombrone, Caglie e Pergola, Monsignor Armando Trasarti. Assieme a lui il parroco, uniti in un momento di fede a cui hanno partecipato tanti fanesi. Il tradizionale appuntamento si tiene al Santuario della Madonna del Ponte Metauro, che è stata proclamata patrona dei marinai il 12 agosto del 1984. Si è trattato dell'incoronazione della Vergine, patrona di Fano e dei marinai, da parte di Giovanni Paolo II. Numerosi gli appuntamenti religiosi che si sono tenuti durante tutta la giornata. Causa maltempo, invece, non è stato possibile effettuare la parte dell'evento che solitamente si tiene nella pineta, con picnic, giochi e tanto altro. Non è mancata però, anche quest'anno, la tradizionale pesca di beneficenza. Un evento, quello che si è tenuto oggi, che è una vera e propria tradizione per tanti fanesi. È una delle feste che sono più importanti addirittura nella diocesi. Il Vescovo ha voluto che fosse inserita insieme a San Paterniano e altre feste come un memoriale per tutta la popolazione, non solo fanese, perché vengono dal circondario, persino da Rimini. Ci sono stati pullman che sono venuti da Rimini. La Madonna del Ponte, questo santuario, è anche consorziato con Ravenna e addirittura con Santa Maria Maggiore a Roma. È stato il santuario abbellito del Malatesta, che vennero qui per ringraziare il Signore di aver scongiurato la peste a Rimini e hanno creato quel bellissimo battistero che è data intorno al 1490. Ci sono degli affreschi bellissimi che sono coevi, ad esempio quello dell'ultima cena, quella di Leonardo da Vinci.